I carabinieri della compagnia di Pesaro, comandati dal maggiore Patrizia Gentili, hanno arrestato poco dopo le 12 di ieri in flagranza di reato un 27enne di Siracusa, artigiano con precedenti. L'uomo, alla guida di una Volkswagen Polo di colore bianco alle 11, si era reso protagonista della classica truffa dello specchietto ai danni di una pensionata 73enne di Pesaro in auto con il marito. Il truffatore, dopo aver individuato la coppia di anziani, li ha seguiti a lungo, lampeggiando con i fari, riuscendo così a far fermare l'auto in strada delle Marche, in uno dei tanti parcheggi lato ferrovia a Fosso Segliore. E' iniziata così una lunga discussione tra il giovane e i due anziani, seguendo ormai un consolidato copione, incolpando immediatamente la signora di avergli provocato con un avvicinamento imprudente la rottura dello specchietto retrovisore. Il siciliano, in maniera insistente, ha tentato di estorcere alla malcapitata signora la somma di 300 euro, ma la 73enne, anziana sì, ma molto diffidente nei confronti dell'uomo, per toglierselo dai piedi gli ha allungato 100 euro. E ha tentato anche subito dopo di chiamare col cellulare il 112 per chiedere aiuto, ma il truffatore si è accorto della manovra della donna e con violenza gli ha strappato il telefono di mano. Proprio in quel momento è transitata la pattuglia dei carabinieri che è stata subito catturata dalla scena e si è fermata. Ma alla vista dei militari il 27enne è montato rapidamente in macchina e si è dato alla fuga, una fuga breve terminata con la sua cattura da parte dei militari. I carabinieri erano già sulle sue tracce allertati da una chiamata di un altro anziano di Fano che poco prima aveva subito la stessa sorte della signora, che il giovane aveva tentato di truffare con lo stesso stratagemma, il quale però aveva segnalato subito al 112 l'auto e il colore con il quale il siciliano abbordava le sue vittime.